MSC Crociere, Comunità Montana dei Monti Lattari, Data Bank, Marina di Arechi e Rete Destinazione Sud sono le realtà di eccellenza selezionate sulla base dei loro progetti di responsabilità sociale d'impresa premiate alla BMT. Sono i campioni della sostenibilità nel turismo. Le ha scelti il comitato organizzatore del CSR e MED, il salone specializzato che da nove anni il riferimento per le attività sulla sostenibilità e la responsabilità sociale. La Presidente dell'Associazione Spazio alla Responsabilità, Raffaella Papa. Un momento importante per rimettere al centro l'ambiente, le persone e la valorizzazione delle nostre risorse proprio perché dobbiamo essere insieme e tutti convergenti verso uno sviluppo sostenibile sui nostri territori in linea con l'Agenda 23. Oggi premiamo cinque imprese che si sono distinte per gli impegni sulla responsabilità sociale e sostenibilità e rappresenta la prima tappa di un percorso che ci vedrà toccare tanti comparti produttivi per poi arrivare alla tappa del salone dell'ultima giornata il 29 ottobre. Ai CSR e MED ambassador del turismo premiati in BMT andranno ad aggiungersi omologhe iniziative nei diversi settori in cui è declinato il salone CSR e MED dalla produzione industriale ai trasporti ai beni culturali mettendo insieme un repertorio di eccellenze che saranno divulgate nei loro dettagli di buone pratiche e presentate nell'intero percorso di avvicinamento fino alla nona edizione del salone il prossimo ottobre. Tra i premiati ascoltiamo Leonardo Massa per MSC Crociere e Anna Cannavacciuolo per Marina D'Arechi e Salerno Port Village. Un premio che pensiamo meritato in quanto da lungo periodo siamo schierati su questi fronti fronti che cavalchiamo da una parte con la tecnologia a bordo delle nostre navi e qui ho una novità da raccontare ma anche con progetti assolutamente innovativi tipo l'isola privata, i Caraibbi o c'è anche i mari riservi. Penso che sia un premio meritato in virtù anche di un binomio che abbiamo con loro che è aver previsto già dieci anni fa un progetto che oggi rispecchia gli elementi per cui riceviamo questo premio.